Grazie, grazie, io sono un piccolo brodo di giugiole come direste anche qua perché all'intanto io nasco veramente come cineasta e anche se il primo lavoro in vita mia l'ho fatto con Ligia, lontano 1984, con la seconda festa nazionale dell'unità delle donne dove io ventenne facevo un anfiteatro pazzesco per una delle prime rassegne di registe italiani facevo una bellissima personale di Giovanna Gagliardo, di Annabella Misculli e di Rosalia Polizzi e però io ero già, anzi forse stavo laureando in storia critica di cinema quindi erano doppia militanza, anche tripla perché casa, famiglia, lavoro e politica e quindi Sara Rimini è una cosa stupenda, la patria di Fellini innanzitutto, poi in questa cineteca meravigliosa vorrei ringraziare anche Leonetti perché è un mito anche il fatto che ci siano delle cineteche e che ci siano dei cineclub e che ci siano dei posti dove una volta quando io mi sono avvicinata al cinema, anche se sono già della generazione professionalizzata, in realtà l'ho fatta per uno slancio etico-politico, ci sembrava che il cinema fosse una rivoluzione non violenta, molto importante ma era comunque una rivoluzione, ci raccontava delle cose dei nostri stili di vita, ci raccontava di come risolverli, il prato dei fratelli italiani per esempio dove c'era Isabella Rossellini che andava a occupare le terre insieme ai suoi amici per me è stato un film che mi ha cambiato la vita, quindi era un periodo in cui i film cambiavano la vita e quindi insomma questo, così com'era, e dopo di che questo, intanto quando la fondazione Iotti appunto e lì mi hanno chiesto di pensare, di dare un'idea, di dire qualcosa che rappresentasse la fondazione che io conosco dalla nascita e ho pensato, ho cercato di capire che cosa già c'era di Nilde Iotti, in effetti di Nilde Iotti non ci sono abbastanza cose, in particolare voglio citare, l'ho trovato su iPlay entrambi, un bellissimo film di Paolo Mieli che Leonide ha detto a Nilde che è ancora adesso molto attuale e poi quello di Peter Marcias che è un giovane regista sardo che ha fatto questa storia di Nilde che è una foglietta, una piccola fiction, a mio avviso da un giudizio da spettatrice e da autrice molto bello. La fondazione voleva una cosa più personale, ha incaricato me appunto perché in qualche modo l'ho seguita, abbiamo fatto tanti anche piccoli corti insieme, molte campagne dall'84 in poi e quindi io gli dicevo ma che cosa devo, non posso fare un ulteriore ritratto di Nilde perché sarebbe anche formi, e poi mi chiedevo perché avrei anche potuto fare e proporre come idea un altro ritratto di Nilde perché come voi sapete ognuno ritrattista fa dei ritratti diversi, ma invece gli dicevo ma soprattutto un giovane oggi che vedo, io mi ricordo da piccola c'erano sempre le filmine a San Paolo, sulle rite dei Santi che erano molto belle, però come dire, erano veramente molto lontane al di là del messaggio poi parte della parabola e quindi dicevo ma un giovane che, ma che cosa sarebbe veramente, allora l'idea è stata che poi è stata accettata, proviamo a fare invece che un film su Nilde, un film con Nilde, e quindi che cos'è che Nilde aveva visto e che cosa voleva dire e che senso ha ancora oggi essere una donna che dedica la propria vita alla politica, perché non è una cosa così scontata, cioè non è una cosa scontata che una persona, anzi oggi poi sembra che uno lo faccia solamente per potere o per avere dei soldi in più o per avere una figura pubblica, invece siccome avevo anche conosciuto la Nilde e avevo anche ballato con lei, raccontavo prima a una festa della grande Elsa De Giorgi, questa grande attrice dei telefoni bianchi, molto amica di Anna Magnani, che faceva questa festa al suo compleanno a gennaio, e c'era Elio Pecora che è un poeta che suona il pianoforte, e io ho ballato con Nilde, è stata un'esperienza molto bella e poi mi ricordo alcune riunioni dove era una persona veramente di grandissima semplicità, di grandissima, molto ferma sulle cose che diceva, non aveva nessun atteggiamento, e quindi era una persona, come si direbbe con termini di svedo, molto autentica, e quindi diceva, ma io dite cosa devo fare, cosa devo dire, e lei mi diceva, no ma guarda non parlare di me, parla della storia d'Italia, di quello che ho visto, e insomma questa è la cosa, quindi l'idea di fare un film con lei e non su di lei, e poi l'altra cosa molto importante, vengono fuori, grazie a Gaffalconi e all'associazione Enrico Berlinguer, moltissimo materiale del tutto inedito, che erano i suoi discorsi, quindi discorsi che lei aveva fatto ai comitati centrali, alle direzioni, che anche lì non erano mai stati usati, perché comunque materiali estremamente, ad una visione molto superficiale, estremamente complessi, scientifici direi quasi, politica seria, e noi siamo messi a trascritto, nessuno ne aveva mai trascritti, quindi noi abbiamo detto, ma iniziamo a trascriverli, è sempre un servizio che facciamo, e poi pian piano ci accorgevamo che c'erano interi pezzi di questi discorsi che ritenevamo di un'attualità straordinaria. Insomma, quindi questi discorsi inediti hanno fatto poi sì che il titolo diventasse non solo con gli occhi di Nilde insieme inediti, ma veramente con voce di Nilde, perché c'è questa voce di Nilde. Poi ci sono tutti questi pezzi di repertorio che appunto non riguardano la vita di Nilde, ma la storia d'Italia, dei 70 anni che l'ha attraversato, grazie agli archivi di Rai Teche, dell'archivio di un visito del Movimento Operario Democratico, che è una fonte enorme di materiali, e dell'associazione Berlinguer. Tra l'altro c'è anche un piccolo omaggio a tre registe scomparse, che sono Andabella Mescudo, Rosalia Polizzi e invece anche Alessandra Bocchetti che è una scomparsa, anche se non fa più molto politica attiva, e quindi che ho voluto anche mantenere come piccola antologia, anche perché comunque costruire un percorso di materiali e repertori è anche sempre rispettare chi li ha girati, perché noi siamo di quella scuola che dicono che non esiste la finestra sul mondo, ma è sempre un'interpretazione, è sempre un inquadramento, è sempre un inquadratura. Infatti abbiamo anche lasciato per esempio le citazioni dei programmi dentro cui questi materiali erano stati usati, non li abbiamo cancellati, perché c'è questa traccia anche del tempo, del palisesto, del tempo che si sedimenta su questa storia delle immagini che fanno poi la nostra visione del mondo. E quindi insomma la sfida era questa, quindi fare un incontro con Nilde, effettivamente tu Lassi ti hai detto e siamo qua con Nilde e la mia speranza è che anche voi possiate con questo piccolo film percepire di essere insieme a lei.